Altro aspetto, ascoltatemi bene, soprattutto chi di voi ha già fatto la dichiarazione dei redditi, chi ha già fatto la dichiarazione dei redditi e aveva degli scontrini per farmaci omeopatici, ve li hanno calcolati, ve li hanno scalati, controllate, ricordatevi un po' cosa vi hanno detto, perché i primi giorni che i vari CAF nel nostro territorio facevano la dichiarazione dei redditi, visto che purtroppo, come sempre, le disposizioni del Ministero sono abbastanza fumose, non venivano considerati validi questi famosi scontrini parlanti, perché ci deve essere il numero di codice fiscale del cliente, tutto benissimo, ci deve essere scritto farmaco, benissimo, ma anche il farmaco omeopatico va recuperata come spesa, il 19%, sia ben chiaro, è superato sempre una franchicia, ma ho avuto notizia di casi in cui il CAF, soprattutto i primi giorni, non ha tenuto conto di questi scontrini, perciò chi ha fatto già la dichiarazione dei redditi, che non gli hanno considerato gli eventuali scontrini per farmaci omeopatici, torni alla carica, si faccia rifare la dichiarazione, perché è suo diritto, è nostro diritto, avere scalati anche questi importi, d'altra parte anche i CAF, non è colpa loro, hanno agito interpretando la legge in maniera sbagliata, legge effettivamente molto, ma molto, guarda caso, oscura, si diceva lunare qualche anno fa.